Siamo alla vigilia di una sfida importantissima, la Pistoiese domani scenderà il Garilli contro il Le Piacenza. Allora come sta la squadra fisicamente e anche mentalmente? La squadra sta bene, ha lavorato molto bene in settimana con l'atteggiamento e lo spirito giusto. La volontà è di fare il meglio possibile per cambiare il trend di queste ultime due partite che anche se a livello di prestazioni sono state positive purtroppo il risultato non lo è stato. Che Pistoiese vorrà vedere? La solita Pistoiese spregiudicata, volenterosa, attenta a migliorare quelli che sono i risultati. Come si può battere questo Piacenza? C'è qualcosa che le fa più paura? No, si è il massimo rispetto del Piacenza perché è una squadra comunque giovane, organizzata, ha cambiato allenatore da poco e che ha volontà come noi di salvarsi il prima possibile. Per quanto riguarda la formazione, Solerio torna fra i disponibili, ancora Out, Romagnoli e Chinellato? Sì, sono molto contento di questo, Solerio da comunque un mese, un mese e mezzo che ha avuto un po' di problemi, rientra tra i disponibili, Chinellato dovrà passare ancora qualche giorno come Romagnoli. È arrivato un nuovo rinforzo in attacco, momento è, come ha visto il giocatore e comunque verrà Piacenza? Sì, 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 tra i disponibili e convocati, un ottimo professionista, un ottimo ragazzo che è stato bravo anche ad allenarsi in maniera più che professionale nel periodo che è stato fermo. Quanto è importante tornare a Pistoia con qualche punto? È importante come tutte le partite, come sempre. Sicuramente arrivando da questi due risultati con zero punti lo diventa maggiormente e ci dà ancora più responsabilità.